I materiali con cui si costruisce la musica elettronica sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco. With Daniele Petronelli Rumore Bianco Hello everyone, welcome back to Rumore Bianco Radio Show. Sì, una settimana speciale per me, voglio dire grazie a Marco Ruzziconi, a DJ Fabriz e a Marco Lux per l'ottima notte in Spoleto, una città in Italia. Questa settimana potete trovare me in Cuaesia per la mia mini-tour. Questa settimana 17 di giugno a Synergy con Giulio 2 in Zagreb e a settimana a Quorum in Kostrina con il mio grande amico Fabiana Jacopets. Fabiana sarà il guest DJ di questa settimana, ma ora è il momento di iniziare. La mia live DJ set e la prima track è di Michael Mayer e Coach, Dogman 1 su Ipso Records. Rumore Bianco Radio Show With Daniele Petronelli Buongior snail La mia deve con l'ottima notte in Spoleto This time è pietigile Lo che si www.la Rogue Maria Ipso族 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.